Pur vero che si è toccato il Parmense e il Piacentino, ma la gran parte dei danni insiste su questo territorio. Prima facevo con il responsabile della protezione civile il calcolo già delle risorse messe a disposizione della Regione per poter già intervenire e di quei 5 milioni di euro c'è un impegno già di oltre la metà di quelle risorse. Quindi quei 15 milioni di euro complessivi serviranno per dare una risposta molto robusta alla ripartenza. Dopodiché il secondo punto che il governo ha già mantenuto è lo sblocco delle potenzialità del patto di stabilità per i torri dell'ordine di circa 14 milioni di euro. Tenete conto che credo siano 4 nella provincia di Parma e una decina nella provincia di Piacenza a partire dalla provincia possono utilizzare le risorse che non vengono contabilizzate appunto nel raggiungimento del massimo del patto di stabilità e quindi anche quelli possono essere investiti ne parlavamo anche adesso per fare interventi nei territori e poi si dovrà andare a vedere punto per punto comune per comune le potenzialità che rimangono a loro delle risorse che hanno a disposizione. Dall'altra parte ci sono alcuni interventi ad esempio qui adesso nella frazione qui di Piacenza discutavamo degli interventi sulle arginature ed altri interventi che AIPO e altri soggetti devono fare per un intervento complessivo di circa 2 milioni di euro che io credo nel giro di poco meno di un anno insomma si riuscirà a progettare, ad appaltare e a realizzare. Stavamo guardando com'era se fosse eventualmente possibile sostenere l'affitto per coloro che hanno l'abitazione lesionata e dunque o distrutta devono stare fuori casa. Lì forse si può interpretare in positivo la norma e verificare se addirittura dentro ai 10 milioni di euro che il governo ha dato come interventi per le sommurgenze e l'emergenza possano essere investiti le risorse dei cosiddetti CAS, contributo di autonoma sistemazione. Oggi si prevede già di fare determinati interventi di sommurgenza però se non vengono fatti anche gli interventi di prevenzione si fa poco. Ci sono i detriti dentro nei fiumi che sono tanti e creano diga. Ci sono anche i ponti che sono caduti, ponti che sono 10 anni che diciamo che sono danneggiati. Finalmente che poi sono caduti e hanno creato danni anche dove non ci sarebbero stati. Quindi tipo il villaggio di Barberino, tipo altri ponti su Feriesa, ecco questo poteva essere evitato. Quindi non dobbiamo dimenticare le responsabilità di qualcuno.